Prima la pandemia, poi la guerra, ora la crisi idrica. Sembra non esserci pace per le imprese, colpite ciclicamente da emergenze di varia natura che mutano con l'attualità. A preoccupare in questo momento, oltre all'aumento del costo dell'energia, è l'emergenza idrica, che secondo uno studio di Confartigianato, nel Chietino e nell'Aquilano colpisce 662 artigiani con 1884 addetti. Non solo siccità, ma anche reticola brodo tra le cause principali dell'emergenza in corso, con la provincia di Chieti che è maglia nera d'Italia con una dispersione idrica del 71,7%, seguita da Pescara con il 58,9%, l'Aquila con il 50,7% e Teramo con il 28,6%. L'impatto del deficit idrico sulle piccole imprese colpisce soprattutto i settori cosiddetti idroesigenti, come l'estrattivo, il tessile e il farmaceutico, solo per citarne alcuni. Per Daniele Giangiulli, direttore di Confartigianato Chieti l'Aquila, il problema si lega ad anni di mala gestione. Ahimè un'ulteriore mannaia sulle imprese, tra il costo dell'energia elettrica e il caro Materie Prime, come ogni anno si ripresenta il problema della carenza idrica sulle piccole imprese e anche sui cittadini, un problema annoso che noi denunciamo da anni perché c'è un sistema idrico abruzzese che è fatiscente, assolutamente va rivisto, con delle dispersioni che toccano il 71% in Provincia di Chieti che addirittura ci fa collocare come peggiore città d'Italia. Su questo noi continuiamo a denunciare quello che di fatto è accaduto negli anni, che c'è stato un aumento considerevole dei costi di acqua sia per i cittadini che per le imprese e tutto questo non è stato seguito da un adeguamento delle infrastrutture che trasportano l'acqua stessa. Come si può risolvere questo problema? Perché di fatto sembra che ogni anno si trattino argomenti fotocopia dell'anno precedente. Ma si deve intervenire sulla manutenzione straordinaria degli impianti, così come è accaduto con le autostrade. Abbiamo visto in questi anni lì, ahimè, i problemi sono stati più gravi. Però sulle infrastrutture occorre interpellare l'ACA piuttosto che i gestori, piuttosto che l'amministrazione pubblica per capire quali sono, andrebbe detto in modo chiaro e esplicito, i piani di interventi, di sistemazione delle infrastrutture, qual è il piano di investimenti per i prossimi anni.